e cuori nero azzurri un saluto da Roberto Scherpini collegati con lo stadio olimpico di Roma pronti per la sedicesima tappa di questa stagione in campo Lazio e Inter Inter in casacca arancio Jan Sommer tanti auguri il suo compleanno quest'oggi in casacca verde maglia bianco celeste per i padroni di casa Maresca si consulta con i suoi due collaboratori aspettiamo che arrivino le 20.45 scoccate in questo momento e allora si può anche iniziare inizia Lazio Inter subito uno schema con una palla buttata lunga dove Di Marco anticipa l'infilata di Manuel Lazzari l'ex giocatore della SPAL traiettoria che mancano tutti una serie di rimpalli poi il tiro e c'è la parata sulla giocata di Camada Felipe Anderson che prova ad andare scambia con Gendusi il francese lì dietro per Lazzari la catena di destra funziona molto questa sera stanno partendo da lì tutte le manovre il cross centro area Sommer era arrivato in agguato come sempre quel falco di immobile rivediamo il cross di Gendusi una palla tagliata Zaccagni punta prova ad andare da solo il cross a cercare immobile che trova la girata di testa a lato al minuto 27 un attacquino particolarmente vuoto di opportunità avere anche questa un colpo di testa da posizione difficile arretrando Gendusi palla per Lazzari cerca il cross interno area Bissek mette fuori Gendusi può recuperare pallone giocato all'indietro poi il recupero e proviamo a ripartire con questa azione che Bastoni imposta appoggia Barella arriva Darmiani il cambio di gioco per Turam la mette in mezzo c'è ancora Turam e il suo diagonale va fuori di un baffo pericoloso questa giocata rivediamo il colpo di testa poi Turam che cerca il tiro nell'angolo all'indietro l'errore Lautaro è solo salta la porta è vuota Lautaro è gol 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 il Toro il Toro il Toro il Toro al 39 Inter in vantaggio l'errore clamoroso di Marusic mi sembra che regala un pallone a Lautaro cioè che voleva passare a Provedel ma Lautaro che è feroce si è lanciato pronto ad andare a intercettare quella sfera ha saltato il portiere è arrivato quasi palla in porta da solo rivediamo eccolo qua il pressing l'errore Lautaro salta Provedel che cerca di buttarlo giù e poi rientra e mette in rete per il suo quindicesimo gol stagionale Inter che punisce al primo errore vero grave errore commesso dalla Lazio questo retropassaggio Provedel non lo può poi qua si allunga il pallone G la prova a rientrare ma niente da fare 1-0 Inter fa la perciala reclama il pallone c'è una spallata di Rovella pericolosa tutto regolare Rovella arriva al limite dell'aria è solo il suo tiro Sommer grande parata occasionissima per il pareggio fa tutto da solo Rovella e Sommer gli chiude la porta al minuto 2 Sommer si fa attaccare e allora batte lungo in zona Turam troppo alto il pallone Barella recupera attenzione che ha campo per poter scappare via prova ad andare profondità per Lautaro ancora Barella la tiene viva Turam è in trenare è solo il tiro a gol a gol turam 0-2 l'avevamo chiesto l'avevamo detto è il momento di farlo 0-2 turam al minuto 21 l'Inter raddoppia con il gol di Marco Sturam bellissima questa azione un'azione spettacolare che ha visto Barella grande protagonista scappare via provare la fondo per Lautaro andare a riprendersi della palla vagante poi assist per Marco Sturam che la mette nell'angolino Provedel può solo raccogliere 0-2 per noi attenzione Michi che se ne va da questa parte entra in aria è solo il tiro Provedel grande parata occasione da gol l'occasione per il 3-0 opportunità importante Mkhitaryan solo contro Provedel che ha parato bene prova ad andare per linee interne Arnautovic intercetta immobile palla per Tati ferma il gioco l'arbitro e c'è un rosso per Lazzari al minuto 41 e gliel'ha detto proprio in faccia bella questa giocata attenzione si propone Arnautovic palla per Carlos Augusto che guadagna il fondo il tiro il miracolo di Provedel sulla girata sotto misura di Mkhitaryan se non sbaglio occasionissima per il terzo gol vediamo come si sviluppa l'azione con Carlos Augusto Mkhitaryan fa una grandissima giocata Provedel ancora una volta gli nega la gioia del gol guadagniamo il corner numero 7 lancio lungo per Arnautovic prova ad entrare in area si ferma Gila lo contrasta pallone dentro Frattesi guadagna il fondo il tiro e la palla sfiora il palo occasione per Frattesi Luis Alberto palla dentro colpo di testa mancano tutti palla recuperata in anticipo Sudarmianda un bianco celeste ancora contro Cross un colpo di tacco con Sommer che evita un pallone che sarebbe terminato comunque a lato ma guadagni più tempo facendo così rivediamo il lancio di Cataldi il colpo di tacco da parte di Marusic la palla era nettamente fuori finisce così con l'Inter che espugna l'Olimpico un 2-0 importantissimo ed è festa grande in panchina ed è festa grande in campo perché i gol di Lautaro al 39 di Turama al 21 ci portano a più 4 sulla seconda Inter che capitalizza al meglio il pareggio della Juventus a Genova vince in un campo difficilissimo qual è quello della Lazio 2-0 vittoria netta a Genova a Genova a Genova a Genova Grazie a tutti.